Musica It's and Travels ha scelto come base strategica il Bed & Breakfast Casa Lorenzina. Siamo in provincia di Imperia, una scelta assolutamente, direi, azzeccata. Buongiorno, Pier. Salve. Buongiorno. Allora, posto assolutamente incantevole. Oggi una giornata stupenda. Quanto è? Quanti anni sono che hai in gestione o hai comprato il Bed & Breakfast? Quando è uscita la legge che autorizzava esercitare l'attività in Liguria nel 2000. E infatti quando ho aperto sono stato il primo in tutta la provincia. È stato amore da subito? Beh, diciamo che tutto è nato dal mio trasferirmi qua dopo 30 anni vissuti a Milano. A un certo punto nell'attività che svolgevo precedentemente mi sono chiesto ma perché non permettere anche ad altri di godere di queste bellezze, di questo piacere che sto provando io. E allora è nata l'idea del Bed & Breakfast che piano piano è cresciuta e adesso è abbastanza visitato da ospiti che provengono un po' da tutto il mondo. Allora, diciamo, diamo un po' una descrizione. Il Bed & Breakfast tre camere, tre camere con bagno. Diciamo, l'orientamento dovrebbe essere quello di sceglierci quando si ama veramente la natura. Non è, diciamo, come potrebbe essere una villa in riviera come la ci si immagina canonicamente perché è tutto molto rustico qua da noi. Quindi la priorità dovrebbe veramente privilegiare l'approccio alla natura, la vista e anche fare una colazione che visita un po' le cose più tipiche della cucina familiare ligure. Quindi li coccoli i tuoi ospiti. Sì, mi sembra molto importante perché viaggiare è un'esperienza dei sensi che coinvolge soprattutto il gusto. Meraviglioso! E partendo da casa Lorenzina, che cosa si può visitare nei dintorni? Questo mi fa ritornare alla mente quando si è trattato di scegliere dove comprare. Avevo dei parametri molto severi perché volevo essere vicino alla via satale Aurelia, volevo essere l'ultimo villaggio prima della frontiera con la Francia. E questi poi sono punti che si ritrovano nella comodità, nell'agio che possono avere gli ospiti quando partono per le proprie visite ed escursioni. Perché siamo a 4 chilometri dalla prima città francese, Mentone, a 12 chilometri da Monte Carlo, ma nello stesso tempo a 9 chilometri dai villaggi dell'entroterra italiani, come dolceacqua, apricale, tutti quelli che possono essere interessanti dal punto di vista storico, paesaggistico e perché no anche del food. Pierre, grandissime sensazioni mi stai trasmettendo. Allora, un itinerario virtuale, punti di interesse, perché tu mi sembri proprio una persona che va a cogliere il romanticismo di quello che c'è da vedere, da scoprire. Quando parlavo dell'importanza della posizione, è il fatto di trovarsi vicini e quindi non soggetti a lunghe code nel traffico, non soggetti alle spese poi dell'autostrada, del carburante, essere già where the action is. e cioè sfruttare tutti gli eventi della Costa Azzurra che spaziano dal Festival dei Limoni di Mentone fino al Rally di Monte Carlo, al Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo, per arrivare ancora al Festival di Cannes, mentre in Italia abbiamo soltanto il Festival di Sanremo e la Milano-Sanremo quando è stagione. Quello che io suggerisco ai nostri ospiti, puntando sulla riviera francese, è il tour a piedi sul sentiero litorale di Cap-Martin, oppure ancora la visita alla Baia di Villefranche, ma soprattutto la visita ai giardini di Mentone, perché verso la fine dell'Ottocento un grande numero di giardini erano stati fatti da dei ricchi inglesi che volevano concludere la propria vita in una situazione particolarmente gradevole durante l'inverno e chiedesse loro la possibilità di coltivare piante tropicali. Allora, da qua fino a Villefranche è tutto un susseguirsi di grandi ville private con giardini di grande interesse botanico che per gli appassionati rappresentano quanto già è sufficiente a organizzare un viaggio, perché sono più di dieci quelli visitabili. Invece, rispetto a questo, c'è tutto il glamour di Monte Carlo di Monaco, c'è Nizza con non solo la Promenade des Anglais e gli alberghi antichi, ma la vicinanza di posti interessanti, come potrebbero essere Antibes, Joan Lepin e poi in ultimo Cannes nella direzione dell'Esterel e di Saint-Tropez. Per chi volesse invece restare in Italia, i punti che suggerisco sono le città, i villaggi direi dell'entroterra, ma anche le piscine naturali formate dal fiume che scorre a Rocchetta Nervina e il villaggio che era stato distrutto dal terremoto di Bussana Vecchia, che negli anni 60 è stato occupato dagli Ippis, che gli hanno ridato nuova vita e che adesso si presenta molto vivo e molto pittoresco. Quindi, amici di Saint-Travels, direi fermarsi a Casa Lorenzina perché? Perché ci sarà Pier a coccolarvi, potrete godere di un panorama assolutamente incantevole, molti giri da fare, molte cose da vedere, relax, contatto con la natura, non manca niente. Grazie mille Pier. Grazie. Grazie a tutti.